la vittoria in ucraina sarebbe il migliore deterrente per i possibili futuri conflitti penso che dovremmo fare tutto il possibile per aiutare gli ucraini abbiamo ancora tempo per prepararci con il resto del mondo quindi sta dicendo che è importante che gli stati uniti continuino a inviare queste armi in ucraina anche se come ha ammesso l'ammiraglio paparo potrebbero essere un po' meno come ho detto abbiamo ancora tempo abbiamo ancora un po' di tempo per prepararci meglio ovviamente con l'aiuto dei nostri amici salve amici e amiche questa è l'ex presidente di taiwan Tsui Hing-wen spero di averla pronunciata bene una donna importante anche secondo il times nel 2020 la proclamava donna una delle donne più importanti sul pianeta è stata la settima presidente della repubblica cinese di taiwan che ha assunto un ruolo fondamentale specialmente poi durante il covid ma comunque è una persona molto impegnata per quanto riguarda i diritti umani i diritti delle donne, delle minoranze e quant'altro in contraposizione con quello che avviene come sappiamo in Cina Taiwan è in una posizione molto difficile lo sappiamo continuamente osteggiata dalla repubblica popolare cinese in questa immagine vediamo una ricostruzione di quello che era semplicemente chiamiamola così una sorta di esercitazione nei mari, nelle acque internazionali da parte di un imponente schieramento di forze militari cinesi e continuamente insomma minacciata dalla Cina nonostante questo taiwan si è sempre schierata in favore dell'Ucraina e lo ha fatto in diverse occasioni con aiuti umanitari importanti nonostante appunto la minaccia che incombe sul suo territorio si è parlato spesso anche dei sistemi missilistici OK forniti proprio da Taiwan all'Ucraina quindi queste parole sono assai importanti e mi collego anche a quello che avevo portato ieri del ministro Crosetto perché insomma è abbastanza raro trovare politici con le idee molto chiare a riguardo bene cari amici oggi vi porto un po' di notizie che sono arrivate in queste ore ci sono importanti sviluppi e alcune dichiarazioni da prendere in considerazione come sempre mettetevi comodi prima di iniziare se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e anche a questo video due gesti fondamentali quindi come stavo dicendo c'è questa forma di fratellanza fra Taiwan e l'Ucraina semplicemente per una questione anche di previsioni su quello che potrebbe essere il futuro condivido molto le parole dell'ex presidente di Taiwan proprio per il fatto che nella semplice formula per cui se la Russia viene sconfitta è chiaro che ridurrebbe il rischio di un'escalation qui utilizzo la parola tanto odiata proprio nell'area del pacifico in questo modo il mondo vedrebbe una riduzione delle problematiche regate proprio alla Russia e alle sue forniture alla Corea del Nord Corea del Nord su cui oggi torneremo passiamo in rassegna alcune notizie importanti che prendo dal Kiev Post c'è stato l'ennesimo attacco missilistico da parte russa oggi quindi lo sintetizzo si dice che le difese aeree siano riuscite ad abbattere 88 droni su circa 132 lanciati mi 41 poi sono stati dirottati di questa notizia ve ne ho parlato anche nei giorni scorsi infatti le capacità di guerra elettronica ucraina riescono a disorientare alcuni droni Shahed e a mandarli in giro a caso alcuni nei giorni scorsi erano finiti in Russia e Belorussia comunque alcuni sono passati e ci sono stati danni e feriti tra la popolazione civile fra l'altro uno di questi ha colpito la facciata di un altro ospedale pediatrico fortunatamente non ci sono state vittime ma solo la guardia di sicurezza durante la notte è rimasta ferita ora su questo insomma c'è tanto da dire perché insomma è un problema non da poco continuiamo a ripeterlo perché ogni giorno i droni russi i missili russi continuano a prendere di mira le infrastrutture energetiche del paese le mentre le temperature scendono e la popolazione resta senza elettricità e riscaldamento passiamo oltre allora in questo articolo viene evidenziato un altro crimine di guerra questa volta che riguarda anche la bielorussia infatti è stato scoperto vi riporto questa notizia i giornalisti di scremi e radio liberty insieme ai loro colleghi bielorussi quindi è una è stato un lavoro congiunto hanno scoperto un campo di detenzione allestito dalle forze russe nella città bielorussia di naroulia situata sulle rive del fiume priviat a circa 70 chilometri dall'area di chernobyl all'inizio dell'invasione russa su varga scala dell'ucraina il campo di venne un sito di detenzione illegale per prigionieri di guerra e civili ucraini compresi bambini i detenuti furono sottoposti a quei trattamenti di cui non posso parlare qui su youtube percosse condizioni disumane utilizzando le testimonianze di ex detenuti immagini satellitari e video registrati da stessi soldati russi i giornalisti sono riusciti a identificare l'ubicazione esatta del campo è stato scoperto che appunto si trovava in un edificio che apparteneva a un'impresa statale bielorussia gli esperti sostengono che le azioni delle forze russe nel campo costituiscono una palese violazione delle convenzioni di ginevra il governo bielorusso ha evitato di commentare gli esperti suggeriscono che il presidente lukashenko potrebbe essere stato coinvolto nella decisione di consentirne l'istituzione quindi vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni è una notizia importante che come al solito e non sarà la prima oggi riguarda la bielorussia e infatti mi collego direttamente a quest'altra notizia infatti in queste ore è stato recuperato un video dei primi giorni dell'invasione si parla del 24 febbraio 2022 è chiaro è una cosa ormai assodata che le forze di occupazione di invasione anzi russa utilizzarono la bielorussia per transitare e andare a cercare di raggiungere kiev queste sono immagini che mostrano proprio le colonne che attraversano la bielorussia come potete vedere sono chilometriche c'è appunto le forze russe che si radunano sul campo ci sono le geolocalizzazioni e quant'altro con fra l'altro anche i cartelli stradali che indicano proprio i transiti all'interno della bielorussia vi faccio sentire giusto a proposito di questo e delle accuse rivolte a lukashenko sentiamo cosa diceva lukashenko non penso che ci sia bisogno di tradurlo esatto sta dicendo proprio questo non è mai successo secondo lui quindi si commenta da solo ecco allora passiamo avanti sarà difficile oggi perché non posso mostrarvi le immagini commento semplicemente la notizia infatti gli ucraini hanno risposto che avevo accennato già ieri che è un dei droni avevano raggiunto la città di rostov sul don e infatti pare che alcuni droni o i loro frammenti siano riusciti a raggiungere l'ennesimo deposito di carburante che poi è andato in fiamme ecco questa è un'immagine non so se si capisce da una superstrada un'autostrada ve la posso mostrare perché c'è un camion in questo momento in questo fotogramma dietro il camion si vedono gli incendi sul deposito di carburante altra notizia che riguarda la flotta russa del mar nero notizia da confermare pare che la nave da sbarco o almeno per le operazioni anfibie la classe è quella denominata vtk 11711 ivan green la classe è quella di circa 5000 tonnellate pare sia stata danneggiata o raggiunta da qualcosa se non addirittura potrebbe anche trattarsi di un incendio scoppiato a bordo per cause locali ecco diciamo così la notizia parla del fatto che la nave si trovasse all'interno del porto di tuapse vicino a soci nel caucaso si tratta di questa localizzazione dove parte delle unità russe sono migrate non essendo più sicure in crimea perché potevano essere raggiunte da missili e droni ucraini quindi la notizia è interessante e spero di poterla confermare da ulteriori immagini perché proprio ieri max 24 proponeva questa notizia in cui diceva che da fonti russe venivano riportati i missili neptun in volo dall'ucraina e diretti verso il ponte di kerk in crimea ora ad oggi che sto realizzando questo video non ci sono rapporti di eventuale attacco al ponte mentre così a naso mi verrebbe da dedurre che questi missili in realtà erano diretti proprio a tuapse e che possano aver colpito questa unità quindi notizia da confermare intanto ve la riporto passiamo oltre ad oggi che stiamo parlando qui vengono aggiunti altri 2030 soldati russi spariti sul campo di battaglia spariti non so se ho reso l'idea è comprensivo di caduti i loro che sono stati ritrovati per terra sul campo o dispersi quindi il numero potrebbe essere addirittura maggiore comunque un altro ennesimo record con questi con questi numeri il rapporto parla di qualcosa di 1,4 soldati russi al minuto che cadono sul campo di battaglia nel frattempo putin oggi ha fatto delle dichiarazioni anche spiritose perché riesce addirittura a trovare il senso dell'umorismo in tutto questo infatti davanti ai giornalisti parlava così facendo questa battuta in epoca sovietica c'era una battuta dice sulle previsioni del tempo ecco le previsioni durante la giornata di oggi tutto è possibile notare la reazione dei giornalisti che probabilmente o non hanno lo spirito o non hanno capito la battuta oppure è una battuta di pessimo gusto perché ha fatto questa battuta perché gli è stato chiesto insomma dell'impiego del missile oresnik che secondo lui almeno se dobbiamo dare credito io non glielo darei onestamente cioè fino a un certo punto ha intenzione di continuare a lanciarlo prossimamente sulle città ucraine ha detto che per verrà utilizzato non escludiamo l'impiego nei prossimi giorni del missile oresnik per colpire strutture dell'industria militare e i centri decisionali anche a chiev quindi insomma la battutona che ha fatto prima evidentemente era diretta a zenevsky in quanto lui dice che con questo missile potrebbe colpire zenevsky la risposta è sì potrebbe farlo dal momento che zenevsky come sappiamo non è mai scappato dall'ucraina come ha fatto qualcuno in siria in queste ore però non commento allora tecnicamente potrebbe essere possibile lanciare un missile diciamo di quelli nucleari da parte russa potrebbe tirarlo su chiev certamente farebbe fuori tutto l'apparato decisionale il parlamento insieme a qualche centinaia di migliaia se non di più di persone e questo sicuramente sì tecnicamente potrebbe farlo il punto è un altro diciamo che oltre a macchiarsi come il peggior criminale della storia per millenni avrebbe delle conseguenze devastanti per la russia questo è poco ma sicuro a proposito di conseguenze devastanti per la russia l'economia come sapete ormai al tracollo il rublo è alle stelle e con chi se la prendono con elvira naviullina una delle economiste più brave in russia quantomeno se parliamo almeno di analista economica quindi è accusata di rallentare il ritmo dello sviluppo economico della russia e di mancanza di competenza professionale che dire no va bene prendetevela pure con gli economisti non penso che cambi la situazione economica comunque per tornare al discorso delle minacce di putin questi erano i tracciati di cinque aerei solo l'altro giorno stiamo parlando di due giorni fa nell'area di kalingrad questa piccola porzione occupata dalla russia detenuta dalla russia in queste aree vediamo i tracciati di tutti aerei nato per la sorveglianza delle attività russe di tutta l'europa nord orientale quindi vediamo il classico river joint aereo per l'ascolto e la guerra elettronica in questo aeroplano ci sono diversi operatori che rilevano e ascoltano comunicazioni comunicazioni satellitari comunicazioni radio e vari tipi poi di coordinamenti con le forze in campo che siano di terra o d'aria due addirittura river joint più una wax giusto per gradire per avere una picture quanto più dettagliata possibile di tutti gli aerei presenti nella zona più due aerei associati gulf stream e bombardier challenger anche questi aerei per la guerra elettronica e trasporto di personale parliamo brevemente della situazione sul campo in tutta la linea del fronte dalla regione di kursk fino a chasivyar non è non ci sono cambiamenti oggi la situazione è molto molto statica a parte appunto il lancio di missili da parte russa in alle spalle del fronte cambiamenti più significativi li vediamo nell'area di toresk con un piccolo guadagno il 27 da parte russa a l'altezza di queste zone boschive che vediamo mentre i cambiamenti più importanti ci sono stati soprattutto nella zona ormai famosa sud est all'altezza di cura cove con un altro avanzamento nella periferia orientale della città anche se non vengono almeno per quello che posso dirvi io poi in realtà queste sono soltanto le cose che sappiamo non quelle che sono nel senso questi sono rapporti video che vengono trasmessi in realtà gli ucraini hanno anche loro tutta l'intenzione di mantenere segrete certe operazioni e così anche più a sud est i russi comunque hanno ottenuto dei vantaggi anche qui in queste zone in questi campi nel giro delle ultime 24 ore passiamo oltre c'è stato un altro attacco da parte ucraina su una postazione s 400 questo è avvenuto presso la crimea e presso il villaggio di vitino che qui sulla sponda occidentale della crimea qui è stato colpita una postazione s 400 si vedono i fumi e le esplosioni e quant'altro quindi un ottimo colpo e questo potrebbe essere interessante proprio per diminuire la capacità di difesa della zona che voglio dire se parliamo di un s 400 a un raggio di scoperta e di ingaggio cerco di disegnarlo di circa 300 chilometri qualcosa del genere vediamo se riesco ecco era un sistema missilistico che poteva coprire una zona di questo tipo ecco più preciso così se l'epicentro se l'epicentro è nel villaggio di vitino anche qualcosa di più se parliamo in termini di ricerca poi l'ingaggio l'ingaggio doveva essere una cosa del genere un s 400 a in teoria questa capacità quindi è stato azzerato ottima notizia allora in queste ore il ministro della difesa berusov che ha preso il posto di gerasimov è in visita presso la corea del nord ricordo che questo soggetto è un semplice economista anzi una specie di riscossore una figura del genere sicuramente un esperto di economia ma di a livello militare non ne sa assolutamente niente è stato nominato da poco e si trova in corea del nord questo per sottolineare la continua collaborazione fra questi due stati canadia russia e corea del nord in cambio di uomini la russia sta fornendo equipaggiamenti forniture tecnologie e questa è una cosa di grande importanza e che dovrebbe far preoccupare molto gli stati uniti questo è il suo arrivo con la fanfara vediamo i soldati con equipaggiamenti leggeri che muoiono di freddo infatti si vede con l'agra di freddo infatti si vede insomma queste sono le scene è curioso che nel frattempo è stata aperta una caffetteria uno starbucks in italia una cosa del genere abbastanza inconcepibile sono quei posti dove bevi i caffè con la tazza grande l'acqua marrone come lo chiamo io e hanno aperto uno starbucks in corea del sud che si affaccia sulla zona demilitarizzata la linea di confine fra corea del sud e corea del nord è curioso che in questo in questa caffetteria ci sono dei dei telescopi che ti permettono di guardare la corea del nord e fra l'altro in corea del nord sull'altra sponda hanno costruito una città fantasma cioè tutta l'idea di un'area dove hanno costruito palazzi e case ma in realtà è completamente deserto giusto per dimostrare che sono civilizzati insomma giusto così allora altra notizia interessante che avevo commentato nei giorni scorsi in cui qualcuno riportava questa cosa come se i droni ucraini fossero riusciti a raggiungere una città a 1300 chilometri dal fronte presso una raffineria di petrolio a salavat davvero molto lontana dal fronte questa notizia veniva riportata come un drone ucraino che attaccava la raffineria che veniva preso di mira a che avevo commentato signori guardate scusate che state prendendo un abbaglio perché quello non è un drone questo è al sagoma che si vede in sostanza è un antonov 2 è il classico aereo da aviazione generale russo vediamo se ve lo mostro intanto antonov insomma è un aereo molto molto vecchio questo qui che insomma è storico per l'azienda antonov vecchio piplano prodotto a partire dal 1947 e quindi mi ha fatto specie vedere che i russi stavano sparando a un loro aereo questi sono i classici aerei che trasportano per esempio materiali posta e quant'altro è un aereo da collegamento civile bene insomma ha sorvolato ha sorvolato la raffineria ed è stato preso di mira dalla contraerea ma in realtà era uno dei loro che dire il personale si è salvato in questo video vediamo non solo i danni che hanno riportato che sono stati miracolati e i fori sulla sulla carlinga vediamo anche l'interno fra poco l'aereo era questo e si è salvato sono riusciti a riportarlo indietro tra l'altro questi sono fuori di piccoli calibri significa che l'aereo è stato preso di mira ecco qua si vedono questo era un questo era un foro di più grosso è stato preso di mira insomma dalla contraerea sia dalla contraerea che dai fucili ma sarà sono vista proprio brutta beh comunque i casi di fuoco amico possono capitare a livello storico sono sempre accaduti restiamo sempre in materia aeronautica questo è un video che arriva dall'ucraina e di piloti gloriosi di su 25 è un aereo d'attacco li vediamo in azione un video molto veloce però vale la pena di guardarlo per alcuni aspetti molto molto importanti che sto per commentare qui volano informazione qui fa un attacco lanciano i classici razzi con un attacco in toss queste sono salve che vengono tirate a mo di artiglieria allora ci sono alcune cose importanti che vengono mostrate vabbè intanto vediamo proprio il lancio di questi razzi che sono s 13 sono grossi i razzi non guidati che possono trasportare delle cariche a frammentazione o esplosive insomma e vengono lanciati ad area col fanno colpiscono ecco questi sono si vedono i lanciatori ne portano 4 per lato quindi 8 nella salva che viene lanciata e niente allora la cosa più interessante vediamo se riesco a beccare il fotogramma esatto vabbè intanto vediamo gli abitacoli di questi aerei che sono aerei degli anni 70 sono datati però fanno ancora bene il loro lavoro nella versione base perché gli ucraini non hanno la versione più aggiornata di questo aereo non hanno la versione t però hanno subito delle modifiche infatti questo pannellino è stato aggiunto più di recente probabilmente è un pannellino che serve per la navigazione ecco come potete vedere in questa sequenza c'è un aspetto molto molto importante ed è qui in questa in questo pannellino questo qui è lspo 15 lm chiamato volgarmente beriozza che è uno strumento associato alle antenne che sono poste intorno all'aeroplano che rilevano le emissioni radar questo strumento insomma permette al pilota di sapere se il proprio aeroplano è stato investito da on the radar se c'è per esempio un aereo che sta cercando sta facendo delle scansioni per identificarlo se ci sono dei delle postazioni missilistiche che lo stanno agganciando insomma è un sistema che permette di sapere che cosa ci sta agganciando cosa ci sta cercando è molto è uno strumento di semplice lettura perché ha un sistema una chiera di luci intorno vediamo se riesco a mostrarvi un'immagine che lo mostri meglio eccolo questo qui questo è il beriozza quello strumento però in questo caso con tutte le luci accese fondamentalmente la tutta questa serie di luci in basso identificano la tipologia di radar che sta illuminando il nostro aeroplano a partire da sinistra questa è la prima minaccia è una minaccia aerea e poi abbiamo tutta una serie di classi lungo medio corto raggio per quanto riguarda le minacce missilistiche e le ultime due penultima ultima sono radar a lunghissimo raggio sia di terra che abiotrasportati quindi per esempio le grosse antenne di ricerca a terra o gli awaks e queste sono le classi poi abbiamo per esempio questa serie di luci circolare la che indica l'intensità della minaccia quindi a partire da quest'ultima in basso a destra questa è la minore intensità mano mano che ci si avvicina alla minaccia si riempie la ghiera e poi abbiamo queste questi numeri che stanno a indicare i gradi di provenienza da cui arriva la minaccia rispetto al muso dell'aeroplano questa in verde sono le minacce secondarie il cerchio rosso identifica se il nostro aereo è stato agganciato da una minaccia quindi da un aereo o da una postazione missilistica se lampeggia il rosso vuol dire che c'è stato un lancio missilistico nei nostri confronti invece la b e l'h indicano l'emisfero da cui arriva la minaccia quindi se dal basso o dall'alto praticamente quindi per tornare a questa immagine la cosa interessante che succede è che durante questa azione i due piloti perché c'è il primo qui a sinistra e noi siamo sul velivolo del secondo del gregario lanciano la loro salva dei missili e come vediamo il berioza sta indicando una situazione molto particolare in cui c'è una minaccia aerea quindi l'emissione che l'aereo sta ricevendo è un radar avio trasportato quindi probabilmente da un caccia russo la distanza è la massima che il berioza può rilevare quindi dipende chiaramente dal tipo di radar che sta illuminando in questo caso il su 25 supponiamo che sia un radar di un intercettore russo come un su 35 un su 30 per esempio quindi è una distanza molto molto grande ok stiamo parlando dell'ordine di circa 200 chilometri anche di più cioè fra i 150 e i 250 chilometri come intensità nonostante questo il pilota vedete c'è il cerchio rosso acceso nonostante questo il pilota ha ricevuto un aggancio quindi loro stanno lanciando una salva di razzi non guidati mentre sono agganciati dalla dalla fonte radar quindi sì questo è quello che succede in altre sequenze poi vediamo che le minacce adesso andiamo a beccarla eccolo eccola qui si vede un pochino qui se ne vede un'altra vediamo se riesco qui non c'è niente qui per esempio non c'è nessuna emissione segno che dall'altra parte è tutto spento ecco allora ah ecco questo è un errore mio scusate allora durante la virata chiaramente dato che le antenne sono posizionate lungo le ali il muso quando l'aereo vira in realtà può essere può offrire il ventre e tendenzialmente può essere cieco rispetto all'emissione ma quando riduce l'angolo di virata vediamo che il velivolo viene investito da una onda radar e qui ci dice che la tipologia di emissione è un sem a medio raggio e anche qui alla massima distanza rilevabile quindi sono questi attacchi vengono fatti alla massima distanza possibile dalla minaccia questo perché vediamo se vediamo qualche altra immagine eccola anche qui vedete questa questa minaccia che viene ricevuta dalle antenne è un sistema missilistico a corto raggio russo sistemi missilistici di questo tipo sono per esempio ISA-15 TOR che sono tipici SEM di difesa dello spazio aereo a corto raggio la distanza a cui viene rilevato è molto molto lontano stiamo parlando di una settantina di chilometri almeno dalla fonte quindi quello che fanno questi piloti è lanciare dalla distanza e tenersi al sicuro e questo è davvero un ottimo lavoro anche perché se parliamo dei moderni missili e delle moderne situazioni di combattimento aereo le distanze sono molto ampie quindi fanno bene a essere prudenti quindi questo è quanto per oggi vi saluto con questa bellissima immagine di un F-16 che arriva fa una frenata aerodinamica si mette in formazione per farsi fare una foto la foto viene fatta da un aereo a elica ecco vedete nel riflesso del pilota si vede l'aeroplano che sta facendo la foto dove c'è un per fare queste fotografie c'è un cameraman un fotografo che è seduto all'indietro con la reflex e scatta la foto e niente è davvero bello perché l'F-16 in un istante fa una frenata aerodinamica non deve usare gli aerofreni per rallentare si vedono appunto le scie di condensa o meglio tricce di berenice fa una frenata aerodinamica si mette in posa per il selfie fa il saluto militare e se ne va bene amici come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima